Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Svolta nelle indagini sul delitto di Sant'Angelo Invado fermati due ventenni albanesi presunti autori dell'omicidio del giovane studente Dragaggio del Porto, il comune di Fanno non ha ancora presentato la domanda per lo sversamento dei fanghi in mare la denuncia del consigliere regionale Mirko Carloni Ma quali esattori delle tasse? Il comune difende con una lettera ai vigili urbani di Fanno Maestri carristi contro il comune all'ente carnevalesca sale la protesta contro la decisione di non fare il carnevale estivo organizzato invece dai cugini pesaresi Eventi annullati e degrado in città Gli esercenti a rivolta scendono in piazza per chiedere le dimissioni della giunta comunale di Fanno Un cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Ismaele Lulli Un nuovo studente di 17 anni trovato morto in un dirupo è trovato appunto con una ferita da taglio profonda alla gola I due albanesi conoscenti della vittima potrebbero essere i presunti autori del delitto Sentiamo Ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Ismaele Lulli Il 17enne trovato con una ferita da taglio profonda alla gola nel boschetto vicino alla chiesetta di San Martino in Selvanera a Sant'Angelo in Vado I carabinieri del reparto operativo di Pesaro hanno fermato due giovani albanesi Due ragazzi di 20 e 21 anni, uno residente a Urbani e l'altro a Sant'Angelo Entrambi conoscenti di Ismaele sono stati interrogati per tutta la notte e in mattinata è stato disposto al fermo Secondo fonti investigative sarebbe stata dunque la gelosia a spingere i ragazzi ad uccidere Ismaele Intanto gli inquirenti cercano di ricostruire i movimenti dei sospettati negli ultimi giorni Hanno perquisito le abitazioni mentre sulla macchina di uno dei due iris hanno fatto i rilievi Agli albanesi i carabinieri sarebbero risaliti attraverso i tabulati telefonici del cellulare della vittima L'attenzione di militari del comando provinciale guidati dal colonnello Antonio Sommese è particolarmente concentrata su loro Si cerca di capire se il 17enne sia stato ucciso altrove e poi portato in auto nel boschetto oppure se si è arrivato vivo fin lì Sarà l'autopsia chiarire l'ora del decesso ma che ad agire siano state più persone lo fanno pensare i segni di trascinamento del corpo Il ragazzo è stato ucciso accanto a una croce in ferro e poi gettato in un dirupo Per farlo dato che lui era magro anche se alto un metro e ottanta dovevano essere almeno in due Il giovane infatti presenta sul corpo diverse tracce di nastro adesivo per pacchi come se avessero tentato di legarlo Oppure è stato legato e poi il caldo di questi giorni ha fatto gonfiare il corpo e i legacci sono saltati È stato un delitto feroce, chi lo ha sgozzato lo ha fatto con violenza Tanto che Ismaele è stato quasi decapitato sul corpo, altri tagli ed escoriazioni Nelle vicinanze del luogo dell'omicidio sono stati ritrovati degli indumenti insanguinati È stato recuperato inoltre anche il cellulare del ragazzo, da cui era partito un sms alle 15.30 di l'altro ieri Diretto alla fidanzata e alla madre Non mi cercate, voglio cambiare vita, c'era scritto, vado verso Milano Una frase inviata probabilmente dai suoi assassini per ritardare le ricerche L'appello su Facebook degli amici e dei familiari aveva preceduto di poche ore il ritrovamento del corpo senza vita del 17enne La denuncia di scomparsa infatti risale a domenica pomeriggio E tra la sera e la mattinata di lunedì avevano deciso di lanciare un appello con una foto del ragazzo Dando la notizia della scomparsa e chiedendo una massima diffusione sui social network Poi, poco dopo, la macabra scoperta che ha mandato in frantumi ogni speranza Un abitante della zona ha riferito agli inquirenti che nella notte, tra domenica e lunedì alle 2.30 circa I cani di San Martino in Selvanera erano particolarmente agitati, come impazziti Non si sa ancora se l'irrequietezza degli animali fosse legata al pastaggio di una volpe O proprio perché in quei momenti veniva ucciso il giovane Nel paese sono state interrotte le attività recreative programmate Ed è stato proclamato il lutto cittadino in attesa di sapere quando si potrà celebrare il funerale In merito al caso è stata battuta poco fa una notizia dall'agenzia ANSA Hanno cominciato a collaborare facendo le prime ammissioni due giovani abanesi di 19-20 anni Fermati per l'omicidio dello studente di 17 anni Ismaele Lulli E' come se si stessero rendendo conto ora dell'enormità del fatto Racconta una fonte investigativa che parla di un delitto da videogame Confermato il movente legato alla gelosia da parte del ventenne albanese nei confronti della fidanzata A Sant'Angelo invado il clima è molto teso Quando i due ragazzi sono stati trasferiti dalla caserma dei carabinieri di Sant'Angelo invado Al carcere di Villa Fastiggio a Pesaro Una folla che si era raccolta ha cercato di colpire a calci e pugni i mezzi delle forze dell'ordine E lanciato in vettive I militari sono riusciti ad evitare conseguenze peggiori dovute al dolore e all'esasperazione Nel piccolo paese tutti conoscevano Ismaele e la sua famiglia I dettagli del caso verranno illustrati domani durante una conferenza stampa Che hanno detto i carabinieri di Pesaro Urbino Questo significa che nel telegiornale di Occhio all'Antizza di domani sera Riusciremo a darvi ulteriori aggiornamenti Cambiamo argomento Tentato furto la notte scorsa intorno alle 4 in via Cesare Tonini Bossi al poderino di Fano Ad accorgersi i proprietari di casa che hanno sentito dei rumori provenire da una finestra del piano terra Si sono alzati per controllare e hanno visto due uomini scappare con delle torce in mano A quel punto hanno allertato i carabinieri che si sono messi alla ricerca dei malviventi La coppia che ci ha spiegato di avere le finestre serrate ha voluto raccontare l'episodio per incentivare la popolazione A tenere chiuse porte e finestre nonostante il gran caldo Ma evitando così furti almeno nella città di Fano Dragaggio del porto e tassa di bonifica Su questi temi è intervenuto il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni Che accusa il comune di non aver ancora presentato la domanda per poter sversare i fanghi a largo di Ancona Sentite Io da parte mia ho cercato di sollevare in aula questa mattina e da diverse settimane All'attenzione della Presidente della Giunta, del Vicepresidente Il problema del porto di Fano Che si nesta nel problema dei porti delle marche Che non sono dragati, non sono dragati secondo me perché la norma con la quale si può fare questa attività È in qualche modo superata da un integralismo e anche da un ambientalismo sbagliato Una volta quando c'era il buonsenso si dragavano i porti una volta, due volte all'anno E si cercava di metterli in mare, i fanghi, laddove era possibile Lontani dalla costa per evitare rischi alla salute Ma i porti erano utilizzabili Se noi crediamo nell'economia che deriva dalla portualità, dal diporto, dalla pesca E in qualche modo per noi questo è un valore Dobbiamo difendere i nostri porti Facendo fare i dragaggi e non rincorrendo continuamente l'emergenza La proposta che ho fatto al Vicepresidente Casini È quella di creare delle aree per l'immersione dei fanghi Davanti ad ogni porto Ovviamente la dovuta distanza dalla costa e dal litorale Però ogni porto deve avere la sua area di immersione Un'altra cosa che lei ha chiesto è la sospensione della tassa del Consorzio di Bonifica Che è stata ripristinata dopo circa 14 anni Non si sospettava, perlomeno io non ero consapevole Non si sospettava che qualcuno avesse mandato 173.000 cartelle e avvisi di pagamento A piccoli proprietari agricoli, a artigiani Questo secondo me è un modo scorretto per chiedere surrettiziamente una tassa ai cittadini Che in questo momento specialmente gli agricoltori e gli artigiani È un danno e una beffa a vedere recapitarsi questi tipi di richieste Anche se sono cifre piccole, 40-50 euro Però quel fondo poteva essere utilizzato il Fondo Europeo E non richiesti parcializzando questa richiesta a piccoli proprietari, a artigiani Che in questo momento fanno già fatica a fare il loro lavoro L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Presenta domani il progetto di ristrutturazione del porto canale e della darsena borghese Tra i lavori sono previsti il restauro delle scalinate, della balaustra in marmo E la creazione di percorsi pedonali Servizio di Lino Balestra La darsena borghese di Fano, liberata ormai dalle ingombranti vele pubblicitarie Si avvia verso un completo recupero di tutta l'area Ed è un privato a proporre un progetto di riqualificazione e restauro dell'intero sito L'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Che ha proprio nello stabile della darsena la propria sede Presenterà domani un progetto di un proprio socio per la sistemazione del porto canale L'innovazione di questo progetto sta nel fatto che non si restaura solo uno stabile Cosa imprescindibile Ma si interviene anche sulle infrastrutture del cinquecentesco porto di Fano È un progetto che comunque potrebbe essere fatto in tre step Magari la cosa principale è la riqualificazione del fabbricato Questa è la cosa primaria Dopodiché il lungo porto e poi il ponte In che cosa consta questo progetto? Quali sono le variazioni e le modifiche che potrebbero essere apportate? Prima cosa è appunto la sistemazione del fabbricato Quindi tutte le opere murarie per riportare appunto in sicurezza e in decenza questo fabbricato Dopodiché la riqualificazione del lungo porto con illuminazioni, panchine eccetera E alla fine quasi vicino al ponte della ferrovia Un ponte in legno per dare la possibilità ai fanesi di passare da una sponda all'altra L'Associazione Marinai d'Italia inoltre sarà impegnata in una mostra storica Per ricordare il contributo alla grande guerra della Regia Marina nel 15-18 Con una serie di conferenze e una mostra stabile nei locali dell'Associazione Visitabile dal 26 di luglio tutti i fine settimana dalle 18 alle 23 La Marina ha fatto tanto Nonostante magari si parla sempre delle trincee e dei fanti che sono morti Anche la Marina abbiamo avuto dei fanti, come qui sono riportati, che hanno combattuto sul Piave Stefano Miresola di Forza Italia e Lodovico Doglioni della Lega Nord Sono intervenuti in merito ai parcheggiatori abusivi Invasi e perseguitati, si legge in una nota E la sensazione che si prova a fanno appena scesi dalla propria auto O in arrivo con il treno in stazione Purtroppo scrivono mentre i vigili urbani sono costretti a guardare solo i dischi orari Per far cassa Dietro l'angolo c'è la banda del pizzo Pronta a chiedere monete a chiunque parcheggi la propria vettura Stessa cosa accade nelle spiagge e nelle vie del centro storico E ora chiedono che il sindaco ripristini la legalità in città E che eviti anche di graziare i ragazzi del Grizzly Che hanno occupato abusivamente una proprietà dello stato senza pagare alcunché Tutto ciò conclude la nota Mentre i nostri negozianti sono costretti ad emettere scontrini fiscali e pagare le tasse E in merito alle polemiche di questi giorni sul ruolo della polizia municipale La giunta comunale di Fano ribadisce la sua più totale fiducia sull'operato dei vigili urbani E la sua piena solidarietà ai singoli componenti per gli attacchi e le strumentalizzazioni Ai quali sono stati ingiustamente sottoposti da parte di amministratori pubblici della minoranza La giunta si legge in una nota Rispinge il fatto che il bilancio sia gonfiato dalle sanzioni amministrative al codice della strada E ritiene al contrario che tale voce sia inferiore alle cifre messe di altre città limitrofe Inoltre ritengono lesiva dell'onore della polizia municipale L'affermazione vigili esattori delle tasse Invocare conclude la nota il buonsenso in certi casi E poi trovarsi dall'altro in situazioni di emergenza Come successo all'ambulanza a Gimarra Che non è potuta transitare per il parcheggio selvaggio di bici e moto Rappresenta un'assurità dicono sostenibile solo da chi non ha rispetto per il prossimo E la vita dei suoi concittadini A chiedere invece le dimissioni della giunta comunale di Fano Sono diversi esercenti del centro storico e rivolta per gli eventi estivi annullati Ma anche per lo stato di degrado in Curia in cui versa la città Nell'attesa di una manifestazione di protesta organizzata per lunedì prossimo Alle ore 15 lungo corso Matteotti I commercianti stanno distribuendo volantini Come quello che state vedendo in questo momento In cui si legge Abbiamo deciso di scendere in piazza per esternare il nostro malcontento Verso un'amministrazione comunale che ha deciso di toglierci tutto Che ha deciso di farci morire il centro storico e la città E ora di dire basta hanno scritto a questa squadra di incompetenti Che ha deciso di portare Fano ad un livello di degrado in Curia Mai raggiunto negli ultimi anni I monumenti più belli sono chiusi e inutilizzati Come la corte malatestiana L'ex chiesa di San Francesco Quella di San Pietro Ci state togliendo tutto Si legge ma non ci toglierete i nostri sogni Che ci portano a chiedere le dimissioni A tal proposito lunedì ci sarà anche una raccolta firme I maestri carristi vanno contro sia il comune Che all'ente carnevalesca Sostenendo di essere sempre stati messi in disparte Nelle decisioni e nelle iniziative Inoltre ancora oggi Dicono i carristi che devono avere Ben 20.000 euro Un attacco frontale alla carnevalesca E all'amministrazione comunale Sulla gestione del carnevale a Fano Quello mosso dall'associazione maestri carristi E dagli operatori Questa mattina in una conferenza stampa Alla quale si sono presentati tutti i compatti Fatta eccezione per l'associazione gomma piuma per caso Che all'ultimo ha dato forfè Dissociandosi così da questo fronte comune degli operatori Forse per il fatto che 5 di loro Sono nel consiglio della carnevalesca Sono diverse le criticità che tolgono il sonno ai carristi Non ultimo il fatto che devono ricevere L'ultima tranche di 20.000 euro Per il saldo del 2015 E con l'IVA da versare fra poco Potrebbe essere una situazione davvero imbarazzante Il primo a prendere la parola È il maestro Ruben Mariotti Che ha il compito di togliersi subito Qualche sassolino dalla scarpa E fare la parte critica Si sono verificati degli accadimenti Che proprio non capiamo Dice il primo Il fatto di non essere stati assolutamente contattati Dalla carnevalesca Per la missione all'Expo Ed essendo noi quelli che praticamente Materialmente fanno i cari del carnevale Non capiamo il perché di questa esclusione Il carnevale estivo Noi eravamo gli unici ad averlo Ed ora che noi non lo facciamo I nostri competitor principali Viareggio, Putignano e Acireale Lo sfoderano E per la gente Il carro è il carnevale Lo dice una ricerca commissionata Proprio dalla carnevalesca Ci rifacciamo ad un sondaggio molto importante Che l'ente carnevalesca ha commissionato Ad un'agenzia specializzata Dalla quale risulta in modo appunto Come dicevo prima scientifico Che la gente che viene al carnevale di Fano Viene fondamentalmente per vedere I carri del carnevale Quindi siamo noi che costruiamo I carri del carnevale E in questo diciamo Siamo il centro Siamo l'anima Siamo il motore del carnevale Ma la diatriba Sull'esclusione da tutti i tavoli Non riguarda solo questa presidenza Della carnevalesca E dal 2000 ad oggi Che è sempre stato così In 15 anni Nulla è cambiato Non siamo mai stati Nella stanza dei bottoni Aggiunge Giovanni Sorcinelli Dell'associazione Panta Gruel Vogliamo sapere Dice Qual è l'idea di carnevale Che si ha in questa città Perché a nostro avviso Il futuro del carnevale Così com'è È a rischio Ribadiamo la necessità Di creare un tavolo Di concertazione Fra i soggetti Che sono I soggetti principali Per il carnevale Cioè il comune Che poi alla fine Contribuisce Con un impegno importante E ribadiamo Sono soldi pubblici questi L'ente carnevesca Che organizza Che però È un soggetto privato E noi operatori Ed è ora Che la cittadinanza sappia Aggiunge Sorcinelli Che per i capannoni dei carri Siamo stati noi A versare lacrime e sangue Per averli E poi altri Si sono presi il merito E anche una presenza stabile Come testimonianza Di una città Del carnevale Sarebbe Duopo Insomma Un museo Qualcosa Che lo ricordasse Permanentemente Ah questo è assoluto Dunque i cantieri del carnevale Che ancora continuano ad essere anonimi E ricordiamo Essere ancora uno stralcio Di un progetto complessivo Molto più articolato Ecco quel progetto Che ricordiamo Magari i fanesi Con cittadini Non lo sapevano O chi lo sapeva Se ne è dimenticato Quel progetto Viene dagli operatori carristi È stato presentato Proposto Ci abbiamo fatto delle battaglie incredibili Per avere quei cantieri Ecco Quel progetto Prevede Che Con il completamento Si abbia anche Un museo del carnevale Perché Il museo deve stare Vicino Dove si producono le cose Gli oggetti E può essere davvero Anche quello Un motore Per visite Per incontri Perché abbiamo Qualcosa Che altri non hanno E mentre il comune di Pesaro Sta promuovendo Il carnevale estivo Che si svolgerà Tutti mercoledì Fino al 26 luglio Con sfilate di carri Balli latini Cene Sfilate in costume Qualche fanese Non ha apprezzato La decisione del comune di Fanno Di annullare il suo Carnevale estivo Evento promozionale Di quello invernale Questa mattina Infatti Sono comparsi Lungo via l'Adriatico Due striscioni di protesta Il primo è stato posizionato A pochi metri Dalla tenso struttura Di Sassonia Mentre il secondo All'altezza Dell'anfiteatro Rastat Eccoli qua E in merito Noi oggi abbiamo chiesto Il parere Di fanesi e turisti Carnevale estivo sì Carnevale estivo no Cosa ne pensi? È un peccato Che non lo vogliono fare Perché io Sono abituato Da quanto ero bambino A vedere il carnevale Estivo e invernale E quindi È bene che ci sia E sarebbe La cosa migliore Non solo per noi Cittadini Fanesi Anche per La gente Che viene a trovarci Qui E spende i soldi Quindi insomma Un buon viatico Di promozione Quando poi Lo fanno anche altri Insomma Dispiace ancora di più No Non lo dovrebbero fare Perché questa È una tradizione fanese Io il carnevale Lo vivo sempre A febbraio Per cui Mi sembra Che sia Più opportuno Farlo a febbraio Però il mio parere Da dove viene? Da Conegliano Ecco Qui a Fano C'è un carnevale Che si fa anche D'estate Per farlo vedere I turisti Cosa le può Pensare di questa L'ho già visto una volta Beh Era una bella occasione Perché venendo D'estate solo Ho avuto l'opportunità Di vederlo Però l'atmosfera È un po' diversa Va bene Tutte e due Allora Per chi è lontano Va bene D'estate Magari per la gente Di qua Ha più valore Nel periodo giusto Insomma Io non ci vado Manco d'inverno Quindi non le piace Né d'estate Né d'inverno Comunque Attira molta gente È bello Vedo la televisione Adesso Fanno tv Così lo seguo La televisione Non hanno i soldi Peggio per loro Da dove viene signora? Da Torino Da Torino Io dal 62 Che vengo a fanno Complimenti Allora il carnevale estivo Lo vedeva Certo che lo vedeva Venivo anche l'invernale Ah benissimo Quest'anno il carnevale estivo Non lo fanno Quindi dispiace Come mai? È mancanza di fondi Ah quello è triste Manca tanti Ha preso il via Domenica scorsa Lucrezia La settimana Di festeggiamenti Dedicata Alla 29esima edizione Della giostra Dei quartieri Che si terrani La frazione di Cartoceto Tutte le sere Fino a domenica 26 luglio In vari luoghi Del paese In queste immagini Vi stiamo proponendo L'arrivo dei rappresentanti Degli otto quartieri In gara Nella chiesa Di Santa Pollinare Nel giorno del patrono Anche Non chiacchierate Salute e felicità saranno invece i temi al centro di due eventi organizzati per il 25 e 27 luglio dalla direttrice di Famiglia Nova a Fano. Nella prima giornata in cui dedicheremo due ore al rilassamento, ai benefici della risata e ai poteri della respirazione sarà una giornata aperta a tutti e parleremo nello specifico proprio di quanto questi strumenti portino benessere nella nostra giornata. Mentre per quel che riguarda i workshop più specifici di lunedì 27 in cui tratteremo il tema della demenza avremo come relatrice Letizia Spanoli, formatrice di fama nazionale che è l'ideatrice di un movimento che è chiamato Sentemente. Chi può partecipare, chi può venire a questi incontri? Allora il sabato sera è aperto a tutti, non è necessaria l'iscrizione, è sufficiente presentarsi alla Mediateca Montanare alle 18 in cui faremo le registrazioni e poi venire vestiti comodi. Mentre per quel che riguarda gli workshop del lunedì 27 ce ne saranno uno alla mattina dalle 9.30 alle 13 e uno al pomeriggio dalle 14 alle 17.30 e questi sono più indirizzati agli addetti ai lavori o comunque ai familiari che conoscono e trattano da vicino tutti i giorni la demenza. La sera, sempre al centro Alzheimer Margherita, alle ore 21 ci sarà una serata aperta a tutti e gratuita in cui si parlerà, ci si indirizzerà a tutti coloro che sono interessati a conoscerne di più. Gioca a 2 euro all'otto e ne vince quasi 80.000. È accaduto sabato scorso in una ricevitoria di Serrungarina, lungo via Flaminia. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor del locale i 10 numeri giocati con i 20 estratti, indovinandone 9 su 10. Nello stesso giorno a livello nazionale sono state quasi 2.500.000 le giocate vincenti e questa è la vincita più alta d'Italia in questo concorso. E adesso passiamo invece alle notizie di sport, giornata di festa domenica scorsa per il ciclismo giovanile a Centinarola di Fano con una gara su strada organizzata da un gruppo di cicloamatori, la Centinarolese, sotto la regia della società ciclistica Alma Juventus Fano. Manifestazione riservata alla categoria allievi che ha visto una buona partecipazione nonostante le condizioni climatiche torride. A tagliare il traguardo il Veneto Petrucci Mattia con 7 secondi di vantaggio sull'atleta fanese Matteo Carboni. Passiamo invece all'Alma Juventus Fano perché mancano soltanto due giorni all'inizio della nuova stagione dell'Alma. Domani mercoledì 22 luglio alle ore 9 la squadra si ritroverà allo stadio Mancini per effettuare i test atletici prima di partire per il ritiro di Apecchio. Riconfermata all'ossatura della formazione che lo scorso anno ha regalato grandi soddisfazioni a società e tifoseria. I nuovi volti al momento sono quelli di Camilloni Bartolini, un ritorno, chiacchiarelli e buongiorno. Ma la società è sempre attenta al mercato ed è alla ricerca di un under nel ruolo di trequartista. Alessandro Brocchini invece è 32enne fanese, nuovo responsabile del settore giovanile dell'Alma Juventus Fano. Bene, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il nostro telegiornale che torna domani sera puntuale alle 20.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.